ciao ragazzi eccoci con la quindicesima parte di rayman origins dopo una quattordicesima parte che mi ha fatto desiderare la morte perché veramente scherato come non mai ebbene nuvole tristanzuole io direi che siamo addirittura d'arrivo per il finale almeno da quello che posso immaginare solo per soldi ho molta paura oppure l'ultima parte temo di tutto attenzione magia delle avi noi ti evochiamo apriti diciamo noi focus 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 devo andare e mi sa che ci ha portati paurosamente nell'ultimo mondo eh devo entrarci stavo chiedendo se sarei morto se devo evitare anche i fulmini mamma mia ok finché è così non c'è neanche male oh qui c'è stiamo attenti alle bombazze abbiamo già perso degli electun tanto per cambiare siamo bene no ma sono andato giù troppo presto ma sono una merda sono morto vabbè questa era la prima partita di prova volevo anche fare la prova se morivo con i fulmini però non ne ho tanta voglia cambiamogli subito alle gomme appena arrivano eh vabbè stavo per fare esattamente come prima eh ho perso quello sotto ma se io evito come la peste queste cazzo di bombe oh madonna che pelo che pe- nooo ho capito ma sto pezzo qua facci comparire un po' più avanti i mortaggi tu nooo nooo vuoi muovermi un pochino eh uuuu eeeh vabbè sié lupetutto il mio regno per un Lego per un coro no 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 vai spara sto fulmini vaffanculo ah signor io dopo la parte 14 non ce la posso più fare io voglio passare a fare dei gameplay più tranquilli no eh no 5 minuti già buttati nel cesso così a morire 56 milioni di volte cerchiamo di cerchiamo di non toccare le mine perché le mine cavolo a un certo punto le facciamo esplodere senza pensare eh vabbè lì mi sono sbagliato no 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 quella lì la faccio saltare in aria così me la cavo dai coglioni via dai passiamo oh aiuto 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 passiamo avanti no 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 prego un cuore pochi pochi ma buoni Uh, un bel cuore! Bacca questi! Lo sapevo! Dai mosca di merda, levati! Piano piano... Nooo, ti prego, da capo no! Ah, meno male! E tra l'altro quando si illumina spara... Solo che... Puttana! Piano piano... Passiamo sopra... Eh, stai lì eh! Oh, oh! Madonna! Stiamo entrando in un ambiente leccanico! Oh, oh! No, 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 no! E qua? Come... Come facevo a passare quella... Questo punto lì? Devo sparare a questi? Ah, ok! No, no! No, no! No, no! Ah, 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 ah! Passa, passa, passa! Ah, vaffanculo però! Brutto stronzo! Bordacci tua! E di chi ti ha creato? Eh, sì! fuori fuori e vabbè usiamo usiamo questo dai 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 e vabbè passate stronzi qua di qua no che coglione e vabbè qua ho calcolato malissimo gli spazi dai passate stronzi dai passate stronzi no qua non rischio perchè stavo per morire malissimo e anche forse ce l'ho fatta andiamo tariamo vabbè non avrò preso sicuramente tutti perchè bisogna arrivare ai soliti 300 ne ho persi tanti però veramente 12 minuti per sto cazzo di livello è troppo vaffanculo mago sto anche cominciando a sospettare che quel mago lì sia un bastardo oh dai facciamoci l'altro pericolosissimo livello cime un po' fumose speriamo che ci mantenga per neanche ci mantenga il cuore il pugno un po' più a lungo lo stavo per dire non mi piace come facevo ad arrivarci là vaffanculo brutto bastardo eh vabbè qua c'è qua su no la monetazza eh vabbè siamo abituati a perdere monet ah qua si vuole aspetto eh aspetto non rimbalzare siamo abituati a perdere monetizzare eh sì ci sono sopra e sotto vaffanculo e vabbè ho rimbalzato comunque Piano. Vai. No. 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 Aiuto. Eh, vabbè, che cazzo. Qua si incrociano. In un modo ignobile. No. Eh, vabbè, brutto figlio di... No. Madonna. Non facciamo prenderci dal panico. Eh, che ce la faccio. Aiuto. Dai, dai. Eh, che ce la faccio. Dai, dai, vai. Ah, che agonia. Sì, avrò perso un sacco di stanze segrete, eh. Però, questi cazzo. Bastardo, guarda. che ho fatto una manovra abilissima. Che coglione, mamma mia. Tu sei un figlio di puttano, lo sai? Ma questi bracci non mi fanno niente? bravo. 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 Complimenti. Venghino, signori, venghino. L'imbecille è arrivato. Torniamo su. No. Vaffanculo. Nooo. Ok. Sopra, chissà se c'era qualcosa. Vabbè. Sti cazzo. Io già lo odio sto livello, eh. Vabbè. Giustamente io cosa faccio? Il cuore è andato. Tu! Vernonribiliente è tutto qua. Don criar, scop portion. Non mi passarà a parabeni, ma che non l'ha ucciso? dalktor prima. Ne trovo buscando. Per qua. 정' vulgare. Vaffanculo Per una cazzo di moneta Sempre Non so come ho fatto Ma porca troia Non muore No Io ragazzi Non ho parole di quanto sono coglione Troppa fretta Ma ho capito Come cazzo faccio Ma è possibile Eh non ci credo Oh è morto Porca troia Oh vaffanculo Come dite Dai Eh una l'ho squadrata Vabbè State lì a cantarla Ma nooo Ma nooo Ma nooo Nooo Ma dio buono Cioè ho capito eh Ma non si fermano più Panico 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 No Tacci tua Tacci tua Ma l'avevo preso il pugno Perché non me l'ha tenuto Nooo Ancora Madonna mia ragazzi Eh 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 scusa eh Adesso lo vedi Nooo Nooo Finito di puttana Secondo voi io riesco a prendere una cosa del genere Cioè ci devo passare in mezzo Cioè ci devo passare in mezzo Ma non è possibile Non ci posso Non ci passerò mai Non ci passo Nooo 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 Figlio dell'amador Nooo Niente E' solo che E' un E' un riflesso Ragazzi Mi viene da Mi viene da sparare Verso Il basso Beh niente Qua Vorrei dare Tanto la colpa Al gioco Ogni tanto E dire Eh ma sono I comandi Che non rispondono Invece no Sono E' il giocatore Che non risponde Io ovviamente Cosa faccio Mi perdo anche Tutti Tutti Potenziamenti Dei pugni Bastardi Che tentiamo Che tentiamo L'impresa impossibile Tentiamo a riprenderlo Piavo Piaano 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 la tensione, la tensione andiamo a vedere cosa c'è qua, e si, sarà la quarantesima l'ho persa tutte ah ok, allora oh no 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 muori bastardo oh no mamma mia oh e basta guarda te, guarda te ma non muore mai eh sono fatta ma ancora vivo tu sei un figlio di puttana addirittura addirittura queste parti qua cominciano ad essere stronze in qualsiasi direzione quello lì ci punta nooo eh vabbè sono un coglione si sono un coglione però sto gioco è una merda eh di obono bravo bravo complimenti si ma ho capito ma tannatroio ci hanno un hitbox ignobile oh è uno si ma questo qua è peggio del del legend ragazzi eh nooo madonna però è impossibile ma voi ditemi quanto ci devo rimanere qui eh e poi non ci arriva ma non ci arriva neanche morto eh nooo ne manca uno eh ne manca uno ragazzi ma non sono neanche non sono neanche a metà dello stage eh no non c'è niente pure che è davvero ho fatto completamente a caso a caso ho paura paura ho paura paura ho paura ma io sono molto Vai, 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 via! Ma intanto... Intanto morirò male. Ma guarda che precisione! No! Ok, cerchiamo di calcolare la tempistica. La tempistica è una merda. Eh, vaffanculo. Che cazzo è che fa papi? No! Ah, era la stanza segreta. Eh, vabbè. Oh, prima mi è venuta la prima colpa, adesso no, eh? Ok. Seconda stanza segreta. Sì, ma se già quella prima mi ha fatto cagare l'anima... Oh, no! Non può essere così stro... No! Può, può! Vai, 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 vai! Eh, secondo loro io come ci arrivo il tempo? Io lo odio sto livello. Spero... Sì! 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 Eh... 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 Ah... Eh! Eh... Eh... Ci sono andato perfettamente sotto, ragazzi! ma è una precisione che ogni tanto che mi fa spavento. Non posso parlare perché qua se no ci rimango secco. Non smettere di colpire, non smettere di colpire. Fine del livello? Dove c'è? L'avevo chiesto fine, non morte. Oh Eh vabbè Oddio mio Non potevo fare così prima no? Cosa c'è lassù? Eh vabbè qualcosa ci sarà. Una moneta sicuramente. Eeeh quindi? Siamo stronzi fino alla fine eh? Ma non è che bastardi che sono? Allora ragazzi ma c'è da morire. E per 22 maledetti electun non prendo la medaglia completa eh. Vabbè. Siamo già a più di mezz'ora di registrazione eh. Qua... Non so se conviene fare anche il livello dopo eh. Vediamo. Vediamo come si mettono le cose. Non so perché ci sono degli altri punti. Sapete cosa? Meglio che chiudiamo qua la parte. Prima che mi venga un infarto. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento con la prossima parte di Rayman. Ciao a tutti ragazzi. Grazie.